Che cos'è la libertà? Quale libertà? Se conosceste un po' di più voi stessi vi rendereste conto che per voi la libertà è fare ciò che vi piace, senza pensare che ciò che fate può disorbare gli altri, essendo liberi di comportarvi come più appaga il vostro io. Tutto questo rientra nella logica dell'evoluzione, per cui in ognuno c'è la ricerca della libertà, che spesso è un'espressione della vostra insoddisfazione interiore, che non riuscite ad esprimere con le parole perché non l'avete ancora compresa. La vera libertà non è legata ai bisogni dell'io, come abbandonare la propria famiglia, il proprio paese, il proprio lavoro per cercarla in India o in paesi lontani. La vera libertà è tanto vicina da essere nel luogo in cui la si cerca. E come? Scoprendo la verità. E come si scopre la verità? Conoscendo se stessi. E come si conosce se stessi? Chiedendoci continuamente perché pensiamo e reagiamo in un modo anziché in un altro.